buonasera buonasera molto piacere Mirco Ioni si si grazie allora le è piaciuto il film ma io mi sono sbellicato da ridere ma io li ho visti tutti loro e tutti mi piacciono tanto c'ho tutti i dvd gli spettacoli i film tutti io semmo io mi muoie Maria Grazia mi fiola Grazia Maria guardavo sempre Aldo Giovanni e Jacopo semmo proprio fissati no 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 io parlavo del film del San Costanzo Show quello nuovo ah no non l'ho visto quello ma farina e farina ma si fanno lì sono comici loro non aprite quella sporta il nuovo film giallo comico del San Costanzo Show al cinema Politeama di Fano e al cinema Conti di Acqualagna controllate sempre i giorni di proiezione nel nostro sito www.sancostanzoshow.com e nelle bacheche dei cinema le date sono in continuo aggiornamento ci vediamo al cinema ciao 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 ciao